Arcieri di tutto il mondo unitevi perché è arrivato il primo trailer della serie tv di Hawkeye Occhio di Falco lo vedremo su Disney Plus e se non avevate aspettative aspettate perché potrebbe rivelarsi molto più interessante di quello che pensiamo Ben ritrovati a tutti da Giacomo, voi frecciaroli in giro per il mondo Occhio di Falco si appresta a diventare probabilmente il nostro guilty pleasure delle feste perché dal 24 novembre, presumiamo, per sei settimane, quindi fino più o meno al periodo natalizio staremo in compagnia sua su Disney Plus con la serie a lui dedicata una serie che si preannuncia probabilmente più interessante è arrivata il primo trailer più interessante di... magari altra roba che abbiamo visto fino a ora eh sì, Falcon and Winter Soldier, sto parlando di te non che fosse una brutta serie però un po' pesantù, un po' vabbè dai, di quello poi magari ne riparleremo prossimamente ecco qua il nostro trailer che inizia naturalmente a Nuova York perché qui ci troviamo, è sempre un setting molto bello sotto le feste qui abbiamo Hawkeye con la sua famigliola con i suoi figli in realtà dov'è la moglie? Dov'è la moglie di Clint Barton? chi lo sa? si è separato? si sta separando? è dall'altra parte degli Stati Uniti, da qualcun altro? non lo so, ecco, Clint è qui con i suoi ragazzi, ragazze e dice è la prima volta che stiamo insieme dopo tanto tempo, no? quindi sì, lascia presagire che forse è successo qualcosa però sono tutti felici, insomma allegri e tutti contenti qui abbiamo già invece un aspetto che sembra molto potenzialmente figo e interessante ovvero a Broadway c'è il musical Rogers su Steve Rogers e questa è una grande testimonianza che anche nell'universo cinematografico della Marvel finalmente i supereroi sono visti come contenuti da strizzare nella cultura pop vedremo anche dopo la messa in scena sul palco sembra davvero interessante questo aspetto però ecco, dobbiamo capire come verrà sviluppato e inserito può darsi che sia semplicemente uno spettacolo che vanno a vedere Clint e la sua famiglia proprio durante le feste vedremo come verrà inserito nella trama se sarà o sarà solo un passaggio come vediamo qui sembra che loro siano effettivamente all'uscita loro tutti contenti esatto, si vede no, sono chiaramente all'uscita di questo musical di Broadway chissà come avranno trattato Occhio di Falco in questo musical ecco però che Clint vede la tv e qui ovviamente entriamo subito nel vivo dell'azione cioè vediamo qualcuno che si spaccia per Ronin cioè la sua identità segreta l'identità segreta di Clint durante i cinque anni dal schiocco di dita in cui lui aveva perso la famiglia che era evaporata e aveva assunto appunto l'identità di questo vigilante Ronin che se l'era presa un po' con tutta la marmaglia e i malviventi quindi chi è che si sta spacciando per lui? lui non lo sa noi probabilmente invece sì, lo sappiamo si tratta di Kate Bishop tutta l'intensità di Jeremy Renner con le sue solite facce da cane bastonato ed ecco, infatti, ecco qui, oh mio Dio il flashback da Vietnam dove lui ritorna a memoria il suo passato violento da Ronin non farlo, non darmi speranza ma noi invece ce l'abbiamo la speranza la speranza è quella che sia una serie molto carina carina, intelligente, decente famigliola che se ne va Clint rimane ovviamente perché ha visto quello che è successo quindi vuole restare in città a indagare su chi è l'identità insomma di chi gli ha soffiato l'alias di Ronin ed ecco quindi lui saluta i bambini ciao andate dalla mamma qui probabilmente capiremo che fine ha fatto la mamma logo Marvel Studios su ovviamente il centro del bersaglio con queste righe concentriche che sono anche questa onda questa onda su onda che si svilupperà perché immaginiamo che ci saranno un po' di casini creati da questa serie dunque eccolo qua il nostro Clint Barton che entra in azione si mette a spiare, a cercare questo misterioso vigilante che vediamo subito entrare in azione contro dei malviventi che ricordano un po' quelli del fumetto dopo ne parliamo eh del fumetto della graphic novel del fumetto scritto da Matt Fraction e illustrato da Aya davvero un fumetto bellissimo forse tra i più belli di quelli che riportano coi piedi per terra i supereroi e gli Avengers io vi consiglio se ce la fate assolutamente di recuperarlo Hawkeye di Fraction e Aya che è davvero fantastico bello da leggere divertente intelligente scritto benissimo eccetera eccetera dunque abbiamo questi malviventi in tuta di acetato in tuta da ginnastica che ricordano in tutto e per tutto quelli che sono delle costanti nel appunto fumetto di Hawkeye di Fraction e Aya sono dei malviventi pericolosi un po' da operetta un po' pericolosi con cui comunque Clint ha da ridire più volte ci si scontra in maniera abbastanza violenta quindi è bello vedere che c'è un inserimento della graphic novel di Hawkeye proprio all'interno di questa serie perlomeno all'inizio poi vedremo ovviamente ecco c'è subito il fatto che Clint sgama il nuovo Ronin ed è chiaramente Kate Bishop interpretata da Hailee Stanfield e vabbè si sorprendono tutti lei è un'arcera molto brava anche se un po' pasticciona a quanto pare all'inizio visto che scaglia questa freccia e fa cadere letteralmente un campanile è abbastanza divertente questa scena e viene sorpresa da qualcuno capiremo chi è ecco dopodiché si entra nel menage divertente allievo e maestro chiaramente qui abbiamo Central Station che è il luogo dove ci fu il primo Avenger Assemble importante durante l'invasione di Echitauri a New York e qui abbiamo i nostri eroi che insomma stanno insieme in contesto di appartamento e gli dicono quando torni a casa tesoro mi sa che resterò qualche giorno qua perché ho un po' dei casini da risolvere i casini da risolvere che sono ancora eccole qua i malviventi della tracksuit mafia così venivano chiamati nella mafia in tutta la ginnastica nella graphic novel originale e qui stanno facendo del casino si vede che tirano questa molotov che gli viene prontamente rispedita indietro in questa scena molto divertente d'azione e poi appunto Clint gonfia un po' tutti poi fa il classico salto cadendo su un albero di Natale che sembra essere quello di New York il famoso albero gigante di New York perché tutto ha lo spirito molto natalizio fa un po' die hard in alcuni momenti questo trailer e che non è assolutamente un male perché insomma una serie d'azione ironica sopra le righe calata nella continuity marvel sarebbe molto interessante quindi abbiamo questi cattivi che arrivano direttamente dalla graphic novel di Fraction e Aya poi sappiamo che dovrebbe tornare perlomeno in una comparsata il Kimping che abbiamo visto nella serie di Daredevil e questo ci dà speranze di rivedere anche Daredevil ovvero Charlie Cox questo sarebbe davvero figo come nel fumetto Okai le rimedia e quindi viene pestato e lo vedremo un po' pesto qui fa una scena molto James Bond invece dove gli sparano addosso e fugge in Smoking probabilmente anche qui in una scena mutuata dal fumetto perché c'è una scena ambientata a Madripoor che tra l'altro abbiamo già visto in Falcon e Winter Soldier quindi potrebbe tornare anche la location di Madripoor dove ci sarà un personaggio che poi vediamo anche nel trailer adesso non vi dico ancora chi e qui ovviamente lui viene smascherato appunto questi personaggi tra cui Ivan che è questa sorta di capo di questi mafiosetti a quattro soldi con i baffoni esattamente come nel fumetto vestito diverso dagli altri non è in tuta però insomma ecco qui è bello vedere che c'è un po' di fumetto ripreso effettivamente arriva al salvataggio Kate Bishop che però non è proprio insomma una Avenger vera e propria e cade come una pera eccola qua eccola qua abbiamo Vera Farmiga Vera Farmiga dovrebbe interpretare la o una delle antagoniste della serie ovvero Madame Musk perlomeno questo è il nome originale del personaggio vedremo se sarà rispettato se sarà una rilettura del personaggio come è stato fatto per molti personaggi non ultimo in Black Widow per gli avversari e i cattivi però Vera Farmiga c'è a Madripoor proprio in una missione molto segreta si scontrano con lei Hawkeye e Kate Bishop e quindi vedremo che cosa succederà quando ci saranno questi questi scontri e incontri qui abbiamo il musical invece di Rogers e ci sono come vedete tutti gli Avengers abbiamo Ikitauri abbiamo Hawkeye abbiamo Vedova Nera abbiamo Tony Stark abbiamo Hulk credo questo con la felpa verde oddio diciamo sui costumi ci hanno tirato un po' a risparmio Thor Loki probabilmente questo è Bruce Banner forse e poi naturalmente Steve Rogers vedremo ecco si Broadway qui sembra aver tirato un po' a risparmio per quanto riguarda i costumi ma magari sarà divertente lo vedremo probabilmente per pochi secondi Lucky il cane che Hawkeye salva proprio dai mafiosetti di quartiere all'inizio del fumetto di Fraction e Aya e vediamo che è proprio anche senza un occhio ha un occhio guercio perché deve guarire dalle ferite che si è ricavato non vi dico come però qui viene confermato non soltanto che c'è Lucky si chiama il cane ma è c'è sta proprio con lui sotto Natale viene anche vestito da piccolo aiutante di Babbo Natale qui una gara di cosplayer non lo so cosplayer da God of War no sto scherzando Vikings no vabbè insomma medievali poi abbiamo una scena dove questa la famosa scena dello smoking dove vanno sotto copertura Clint e Kate poi di nuovo scene natalizie archi natalizi sequenze d'azione roba che esplode un inseguimento in auto anche questo preso di peso dal fumetto con le frecce che hanno ogni tipo di arma di Clint che vengono usate da Kate e che si stupisce un po' dell'esplosione ok come vediamo c'è scritto trust a bro bro è proprio come si parlano i mafiosetti di quartiere che sono gli antagonisti della parte iniziale del fumetto e quindi saranno loro a fare questo inseguimento anche questo proprio preso di peso dalla graphic novel di Fraction e Aya è un buon indizio perché davvero sarà interessantissimo vedere come la faccia incredibile di Clint Barton come rispetteranno insomma la parte molto interessante della trama del fumetto e poi la famosa caduta con lancio di freccia di Hawkeye che arriva insomma su Disney Plus dal 24 novembre e che belle vacanze di Natale che ti farai e qui ci faremo tutti insieme dunque non sappiamo se ci sarà Yelena che abbiamo visto in Black Widow nella scena dopo i titoli di coda gli dicono la nostra Allegra della Fontaine le dice che Clint Barton è responsabile della morte di sua sorella quindi Vedova Nera non sappiamo se comparirà quanto comparirà nella serie Yelena e si avrà preso il nome di Vedova Nera numero due al posto della nostra Scarlett Johansson ovvero Natasha Romanoff però ecco ci sono tante cose da tenere presenti e tante cose che potrebbero rendere questa serie potenzialmente molto più interessante di quello che pensavamo all'inizio metti un bel pollice su se ti è piaciuto questo video oppure un pollice su commenta e dici che cosa ti aspetti dalla serie di Hokai su Disney Plus dal 24 novembre e poi mi raccomando iscriviti e attiva la campanella per tutte le notifiche ci vediamo alla prossima ciao ciao